Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Gesù ti amo con la tua volontà, viene divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti che sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto ma popolato dai figli voi. Perciò, sovrana regina, a te mi affida finché guidi i miei passi in del regno del volere divino e stretta la mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gesù è un frutto del volere. Gesù è un frutto del volere, Gesù. Gesù è un frutto del volere, Gesù è un frutto del volere, Gesù è un frutto del Gesù è mai v нас Ownedetto a tutti nella misura nessun. Gesù è un frutto del volere, Gesù, dimostra che vengono nella tua morte e subito del volere. Nel tuo volere Gesù Dal libro di cielo, volume 12, 15 maggio 1920 Mi lamentavo col mio dolce Gesù dicendogli dove sono le tue promesse? Non più croce, non più somiglianza con te Tutto è svanito e non mi resta che piangere la mia dolorosa fine E Gesù muovendosi nel mio interno mi ha detto Figlia mia, la mia crocifissione fu completa e sai perché? Perché fu fatta nella volontà eterna del Padre mio In questa volontà la croce si fece tanto lunga e larga Da abbracciare tutti i secoli Da penetrare in ogni cuore presente, passato e futuro In modo che restavo crocifisso in ciascun cuore di creatura Questa divina volontà metteva chiodi a tutto il mio interno Ai miei desideri, agli affetti e papidi miei Posso dire che non aveva vita propria Ma la vita della volontà eterna che rinchiudeva in me tutte le creature E da cui voleva che rispondessi per tutto Mai la mia crocifissione poteva essere completa e distesa tanto da abbracciare tutti Se il volere eterno non ne fosse l'attore Anche in te la crocifissione voglio che sia completa e distesa a tutti Ecco perciò il continuo richiamo nel mio volere Le spinte a portare innanzi alla maestà suprema tutta l'umana famiglia Ed a nome di tutti emettere gli atti che loro non fanno L'oblio di te e la mancanza di riflessioni personali Non sono altro che chiodi che mette la mia volontà La mia volontà non sa fare cose incomplete e piccole Facendosi corona intorno all'anima la vuole in sé E distendendola in tutto l'ambiente del suo volere eterno Vi mette il suggello del suo completamento Il mio volere svuota tutto l'umano dall'interno della creatura E vi mette tutto il divino E per essere più sicuro va suggellando tutto l'interno con tanti chiodi Per quanti atti umani possono avere vita nella creatura Sostituendoli con tanti atti divini E così vi formano le vere crocifissioni E non per un tempo ma per tutta la vita 24 maggio 1920 Continuando il mio solito stato Il mio sempre amabile Gesù mi ha detto Figlia mia gli atti fatti nella mia volontà Sperdono gli atti umani Ed immedemissimandosi con gli atti divini Si innalzano su fin nel cielo Circolano in tutti Abbracciano tutti I secoli, tutti i punti e tutte le creature E siccome restano fissi nel mio volere In ogni offesa che le creature mi fanno Non solo nel tempo presente Ma fino alla fine dei secoli Questi atti sono e saranno I difensori I difensori del mio trono Ed elevandosi a mia difesa Faranno le riparazioni opposte all'offese Che le creature mi fanno Gli atti fatti nel mio volere Hanno virtù di moltiplicarsi a seconda del bisogno E le circostanze che la gloria mia richiede Quale sarà la felicità dell'anima Quando si troverà lassù in cielo E vedrà i suoi atti fatti nel mio volere Come difensori del mio trono Che avendo un eco continuo di riparazione Respingeranno l'eco delle offese Che viene dalla terra Perciò per l'anima che vive nel mio volere in terra La sua gloria in cielo Sarà diversa dagli altri beati Gli altri attingeranno da me tutti i contenti Questi invece non solo li attingeranno da me Ma avranno i loro piccoli fiumi Nel mio stesso mare Perché vivendo nel mio volere Se li sono formati loro stessi in terra Nel mio mare Il piccolo fiume di felicità e di contenti E' giusto che l'abbiano in cielo Come sono belli questi fiumi nel mio mare Loro si riversano in medio E in loro sarà una tale vista incantevole Che tutti beati ne resteranno sorpresi 28 maggio 1920 Stavo offrendomi il santo sacrificio della messa insieme con Gesù Affinché anch'io potessi subire la sua stessa consagrazione E lui muovendosi nel mio interno mi ha detto Figlia mia, entra nella mia volontà Finché possa trovarti in tutte le ostie Non solo presenti ma anche futuri Futuri E così subirai insieme con me tante consagrazioni Quante ne subisco io In ogni ostia io vi metterò una mia vita E per contraccambio ne voglio un'altra Ma quanti non me la danno? Altri mi dicevano Io mi do loro E loro non si danno a me E il mio amore Resta dolente Inceppato E soffocato Senza contraccambio Perciò nella mia volontà Vieni a subire tutte le consagrazioni che subisco io Ed io troverò in ogni ostia il contraccambio della tua vita E non solo finché starai in terra Ma anche quando starai in cielo Perché essendo di tu consagrata anticipatamente Mentre stai in terra nella mia volontà Come le subirò io le consagrazioni fino all'ultimo Così le subirai tu Ed io troverò fino all'ultimo dei giorni Il contraccambio della tua vita Poi ha soggiunto Gli atti fatti nella mia volontà Sono sempre quelli che primeggiano su tutti E danno la supremazia su tutto Perché essendo fatti Nella mia volontà Entrano nell'ambito dell'eternità E prendendovi i primi posti Lasciano dietro tutti gli atti umani Correndo loro sempre avanti Ne può influire se siano fatti prima o dopo Se in un'epoca o in un'altra Se piccoli o grandi Basta che siano stati fatti nella mia volontà Perché siano sempre tra i primi E corrono in ansia tutti gli atti umani Sono similitudini all'olio messo insieme agli altri commestibili Fossero pure di più valore Fossero anche oro, argento, cibi di grande sostanza Tutti restano sotto E l'olio vi primeggia sopra Mai si abbassa sotto Fosse pure minima quantità Col suo specchietto di luce Pare che dici Io sono qui per primeggiare su tutto Né faccio comunanza con le altre cose Né mi mescolo insieme Così gli atti fatti nel mio volere Siccome sono fatti nella mia volontà Diventano luce Ma luce legata e medesimata con l'eterna luce Quindi non si mischiano con gli atti umani Anzi hanno la virtù di far mutare gli atti umani indivini Perciò tutto lasciano dietro Ed essi sono i primi fra tutti Bene, questa meditazione cade Nella stupenda e bellissima Santissima sorennità Del Sacro Cuore Io questa mattina Ero molto Non molto Ero combattuto Se procedere Nella meditazione continua Ecco Del volume dodicesimo Stiamo diciamo Affrontando dall'undicesimo informe Ormai da un po' di tempo E se Dio vuole Si andrà avanti fino alla fine Questo non dipende da noi Ma dipende anche da qualcun altro Oppure Dato che ci sono delle raccolte Prendere un testo un po' più specifico Ecco Sul Sacro Cuore Il Sacro Cuore La Divina Volontà Ecco Ho sentito Dico Filiamoci del Signore Andiamo avanti Nella lettura continua E vedrai che Ci sarà sicuramente qualche riferimento Non solo c'è qualche riferimento Ma veramente Quando legge alcune cose Dico Ma questo Quello che Gesù ha espresso I desideri Che ha manifestato Noi anche In maniera molto molto chiara Attraverso le relazioni A Santa Margherita Maria La Cocca Qui trovano Il compimento Pieno Gesù ha chiesto fondamentalmente La spiritualità del Sacro Cuore Una spiritualità di riparazione Perché ha chiesto quegli atti E con dai più semplici Come La pratica del primo Noi venerdì del mese Allora Santa La consacrazione al Sacro Cuore Mettere un'immagine del Sacro Cuore In casa Tutte quante le cose Che Ecco Dagli scritti E dalla testimonianza Di Santa Margherita Maria La Cocca Si possono facilmente conoscere Che cos'è stata Tutta questa cosa Che Gesù ha Una manifestazione immensa Del suo amore E un processo di coscientizzazione Vi si passi il termine Di noi Di quanto Quell'amore Soffre Non essere ricambiato Anzi Nell'essere ricambiato Malamente Nella maggior parte Delle volte Insomma No? E quindi chiede riparazione Ma la parte centrale Del secondo scritto Gesù ci rivela Che gli atti fatti Nella divina volontà Attenzione Che restano fissi Nel suo volere E in ogni offesa Che le creature Mi fanno Non solo nel tempo presente Ma fino alla fine dei secoli Questi atti Sono e saranno I difensori Del mio trono Ed elevandosi A mia difesa Faranno le riparazioni Opposte all'offese Che le creature faranno Cioè Ci rendiamo conto Quindi Va benissimo E dobbiamo farli tutti E lo fatti tante volte Insomma Prima di novità del mese L'ora santa La facciamo tutti giovedì Per carità L'immagine del Sacro Cuore La portiamo dentro casa Con 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 amore Con tutto lo zero possibile Ricoprendola di baci Con tutto quanto L'amore Possibile e immaginabile Nei confronti di Gesù Facciamo le nostre penitenze Riparatrici Tutto quello che noi vogliamo Le comunioni riparatrici Oggi Speriamo Con tutte quante le sante messe Saranno fatte Gli atti pubblici Di riparazione Le ammendano orevoli Come Gesù ha chiesto Proprio nel Nel giugno del 1675 Proprio quando fece La grande Rivelazione del Sacro Cuore Chiese L'istituzione Di questa festa E di questo E la volontà Che si facesse La comunione riparatrice In questa festa E l'ammenda onorevole Per le offese Commesse contro il suo cuore No? Certamente Ma prima di fare quest'atto Se ci facciamo una bella Piccola fusione Nella divina volontà E chiamiamo la divina volontà A farlo in noi E noi a farlo in essa Capite? L'atto di riparazione Che faremo per esempio Oggi Rimarrà fisso Nel volere di Gesù E in ogni Offesa Che le creature Gli faranno Gesù vedrà Questi atti Immaginiamolo Come si ergono Come guardie D'onore Come Certa spiritualità Del Sacro Cuore Giustamente Sottolinea E che spingono Ecco Fanno Fanno scudo Fanno difesa A tutte le offese Che Gesù riceve Quindi Qui Gesù ci sta dicendo Cioè È come se Assalta Margherita Avesse chiesto Che cosa Volesse fare Cioè Che cosa volesse Non fare Soltanto lui Che noi Che cosa volesse da noi Ecco Il ricambio Quindi la riparazione E qui però Ci spiega Come farla In maniera Perfettissima E divina Quindi E attenzione Che poi Gesù Prosegue Quale sarà La felicità Dell'anima Quando si troverà La sua in cielo E vedrà i suoi atti Fatti nel mio volere Come difensori Del mio trono Che avendo Un eco continuo Di riparazione Si badi al termine Respingeranno L'eco delle offese Che viene dalla terra Cioè Capite È come se noi Mettessimo degli scudi Intorno a Gesù E per quanti sacrileggi Per quante bestemmie Per quanti oltraggi Per quante indifferenze Tutte queste Si scaraventano Contro questi scudi E Gesù Non lo feriscono E tornano indietro L'immagine è questa L'immagine è questa E poi ci metto E poi ci metto un altro carico Da undici Nostro Signore L'anima che viene Il mio volere in terra E fa queste cose La sua gloria in cielo Sarà diversa Dagli altri beati Parla di questi Mistici Fiumi Che sgorgono Dal suo mare No? E sarà una vista Tale incantevole Che tutti i beati Stessi Ne resteranno Sorpresi Io Quando leggo queste cose Quando rileggo queste cose Insomma Come dire Sorge sempre Una considerazione previa E me la pongo anche io In primis Mi dico Leona Ma tu quanto Hai capito Quello che c'è scritto qui? Se non rileggilo Hai capito bene? Cioè Ti rendi conto Di quello che c'è scritto qui? Ci credi? Sul serio? Lo prendi sul serio? La sua gloria in cielo Diversa dagli altri beati Uno scudo Contro cui Si infrangono Tutte le offese Non solo presenti Ma fino alla fine dei secoli Che saranno fatte contro Gesù Cioè Fare un regalo di questo genere A Gesù Cioè Pare cosa piccola E non solo che è un grande regalo Ma Quello che poi lui dà il ricambio Gloria in cielo Diversa dagli altri beati Cioè gli beati Cioè gli altri beati Immaginiamo un San Francesco Qui non è che parla di Cioè Questi sono giganti Sono colossi So Capito? Cioè Io quando penso a Quando penso a San Francesco Che vuoi pensare? San Francesco è San Francesco Quando penso a San Francesco Io personalmente Dico San Francesco È un fenomeno È un fuoriglasse Padre Pio è un fuoriglasse Ma Pozzo io sta a pensare Che San Francesco Padre Pio Se io faccio questi atti Nel Dio Involere Staranno a guardare La gloria mia Diversa da quella Loro E ne resteranno sorpresi Cioè Qui bisogna farla bene La meditazione Cioè qui c'è Qui c'è Qui c'è Da passa E prendo un colpo Cioè È chiaro che Non nascono Sentimenti di Di superbio D'orgoglio spirituale Perché Come dire Nasce come dire Quella Quella santa confusione Perché c'è anche Una confusione santa Che dice Signora mia Ma veramente è così? Dico Che dobbiamo fare? Che dobbiamo pensare? Ma ci sta scritto questo Ecco E allora Ecco la festa del Sacro Cuore Non è veramente tanta Tanta roba Prima nello scritto precedente Di nuovo Gesù insisteva Sull'importanza Del portare Dinanzi alla Maestà Suprema Attraverso gli atti Fatti nel divino volere Tutta l'umana famiglia E a nome di tutti Emettere gli atti Che loro non fanno E questa è quella particolare Disposizione O proprietà Ecco che deve nascere in noi Che si sintetizza Nell'oblio di noi stessi Nella mancanza Di riflessioni personali Perché quello che ci interessa Quello che ci sta a cuore È che sia contento Gesù Anche questo Se uno vede Anche oggi la festa del Sacro Cuore Santa Margherita Maria La coca Come dire è nota Per aver fatto Tante di quelle Follie D'amore Che Alcune di esse Insomma c'è veramente Da sentirsi male Se uno legge la Biografia No? Ecco Però Mi raccomando Ecco E non possono essere imitate Però su di esse Non bisogna fare nessuna ironia Perché quest'anima Era folle di amore Verso Gesù E non è l'unica Ad essere lo stato Nel corso della storia Della Chiesa L'amore fa fare follie Chi è veramente innamorato Sa che significa Ma anche umanamente Le follie d'amore Che si fanno Perché dentro l'amore La follia Che di per sé È una cosa Ovviamente Da non Da non Da non approvare Da non avallare Da non incentivare Ma dentro l'amore Tutto Prende Senso Le follie d'amore Per Gesù Si possono fare come? L'importante è che ci sia Un amore autentico Quindi che non ci siano Ecco Forme di Esaltazione O di Fanatismo Insomma Che non c'hanno niente a che fare Con Con una vita Sana e santa No? Di fede e di carità Però Ci sono Ecco Un'altra cosa che Gesù ha detto L'ambiente del volere eterno Svuota tutto l'umano Dall'interno della creatura E vi mette il divino No? Bellissima anche questa espressione Svuotarci dell'umano E riempirci del divino Sono frasi Sono frasi Da contemplare Anche Da lasciare Che dentro di noi Scavino Come dire Delle Delle sorgenti Delle fonti Di desiderio Che niente più in noi Sia umano Ma tutto divino In modo bello Ovviamente Anche questo No? Quindi in modo In modo bello Sono veramente cose belle Queste Abbiamo infine L'ultimo Testo che abbiamo letto Ecco Attenzione Anche questo È molto Attinente Alla festa Che stiamo celebrando In ogni Le ostie E anche qui C'è cosa detto Gesù Se tu Se tu Al momento Della consagrazione Gli ha detto Tu ci metti L'unione Con la mia volontà Io troverò In ogni ostia Il contraccambio Della tua vita E non solo Finché starai in terra Ma anche quando Starai in cielo Dal momento C'è dato Capito Cioè c'è C'è data Una sorta Di ricetta È un modo Con cui Poter realizzare Questo grande desiderio Di Gesù Quindi di avere Questo contraccambio D'amore Perché si lamenta Dice Io non gli ostia Vi metto una vita E per contraccambio Ne vorrei un'altra Ma quanti Non me ne danno Ma quanti Mi dicevano Io mi do a loro E loro non si danno a me Non gli danno niente A Gesù E il mio amore Resta dolente Inceppato Soffocato E senza contraccambio Ecco il grido Che Gesù Rivolse Attraverso Le liberazioni Del sacro cuore Ma questo Quante volte È verissimo Quanta gente Tante volte L'abbiamo considerato Almeno a quello Che appare all'esterno Poi insomma Se uno C'ha Esperienze interiori Nascoste Invisibili Insomma Io lo dico Da sacerdote Ma quanta gente Insomma si vede Come si accosta La comunione Anche Come dire Anche esteriormente Tu lo vedi Guardi un attimo In faccia Una persona Lo capisci Se c'ha la testa Per aria O se sta raccolto Se sta devota Come sta in fila Come dicevi Gesù Quando torna a posto Quanta gente scappa Appena fatta La La benedizione Quasi nessuno Si ferma A stare un pochino Con Gesù Io dico sempre Ma come fanno Come fanno Per me è un problema Grosso Insomma Non potermi fermare A stare con Gesù Talmente grosso Che Per noi che non ci siano cose Gravissime Urgentissime Finita la messa Io non voglio sentire nessuno D'accordo E credo che In altre meditazioni Già E vi modo Insomma Di raccontare Quell'aneddoto Vero Di San Giovanni Paolo II Una volta terminata la messa Lo stava facendo L'ingraziamento Arriva il Presidente C'era in attesa Il Presidente Degli Stati Uniti E l'entourage I monsignori Stavano agitati Insomma Che fa? Fa aspettare Il Presidente Degli Stati Uniti Insomma Aspettano un po' Aspettano un po' Dopodiché uno Trova coraggio E va a fare Toc toc Sulle spalle Del Papa Cosa che non si deve mai fare Neanche sulle spalle Di un povero prete Quando sta pregando Nessuno lo faccia Ecco Non trovasse Il proprio sacerdote Il proprio parro Che sta pregando A meno che Certamente Non sia morto qualcuno Cose Veramente straordinarie Ma il Presidente Degli Stati Uniti E quanto dice San Giovanni Paolo II La risposta che vede Non è una cosa straordinaria Perché Toc toc Dice Santità C'è il Presidente Degli Stati Uniti Dice Ma il Presidente Degli Stati Uniti Può aspettare Cinque minuti Io sto col Signore Dell'Universo Un po' più grande Del Presidente Degli Stati Uniti Ecco Dite questa Risposta Da Santo Papa Insomma Qual era No Io ricordo Non faccio il nome Con obbi Parlai Con un vescovo O forse Era addirittura Un cardinale Forse sì Quando San Giovanni Paolo II Era ancora Papa Che Ci confessò Che aveva Concelebrato Con San Giovanni Paolo II Dice Questo ci fa vergognare A tutti quanti Per come celebra Per l'intenso raccoglimento Che c'ha quando consacra A volte sembra quasi Che gemma Quando Quando celebra la messa No? Questo era San Giovanni Paolo II Quindi Questo Concardinale Concelebrante Se ne è accorto Molto molto bene Quindi c'è modo in modo Di accostarsi All'Eucaristia No? Ecco Ma qui Gesù Esprime il lamento Ma dà anche il rimedio Nella mia volontà Vieni a subire Tutte le consegrazioni Che subisco io E io ti troverò In ogni osto A conto a cambio Della mia vita Attenzione Perché Gesù E questa è proprio Squisitissima Dottrina cattolica Non si trova solo In cielo seduto Alla destra del Padre Lì Come dire Ci pensiamo Col paragrafo precedente D'accordo? Quindi facendo Gli atti Tutti Nel divindolere E in cielo Gesù c'ha lo scudo Di questi Eh ma Gesù Non sta solo in cielo Come dice Il glorioso catechismo Nel San Piovese Gesù sta in cielo Essenzialmente Personalmente Anche in tutte le ostie Consagrate C'è questo problema Ci sono infinite particole E lì Chi lo difende? A Gesù Ecco lì Lo difendiamo in questo modo Vieni a subire Tutte le consegrazioni Che subisco io E ti troverò In ogni ostia E io troverò In ogni ostia Il contraccambio Della tua vita E non solo Fino a quando Tu starai in terra Ma anche dopo Anche quando Starai in cielo Così Come subirò Le consegrazioni Fino all'ultimo giorno Così le subirai tu E io ti troverò E io troverò Fino all'ultimo dei giorni Il contraccambio Della tua vita E questa è tanta roba Sul serio E poi prosegue A fare L'apologia Degli atti Fatti nella divina volontà Titolo di questa meditazione L'apologia Degli atti Fatti nella divina volontà Cioè La loro esaltazione Da parte di Gesù Cosa dice? Sono quelli che primeggiano su tutti Si inventa La divina fantasia Di nostro Signore Stavolta L'immagine dell'olio Questo si vede benissimo Quando noi mettiamo dell'olio Anche nel sugo Cioè L'olio galleggia sempre Sta sempre al di sopra Della superficie Quindi gli atti Nella divina volontà Primeggiano sempre su tutti E se non fa niente Che siano piccoli o gra Poi assai anche piccolissimo Basta che siano fatti Nella mia volontà Perché siano sempre tra i primi E corrono davanti A tutti gli atti umani Non fa niente Che siano fatti Prima o dopo Siano in un'epoca O in un'altra Se piccoli o grandi Perché dice questo Perché un atto fatto di dire La volontà è immediatamente Eterno Quindi anche se viene fatto oggi Nel 2019 E il 28 di giugno Quest'atto Come dire Immediatamente Appena sorge Tra valiche I confini del tempo E dello spazio Quindi Mi va a precedere A qualche migliaia Di anni fa Non per la potenza Io sono nulla Io sono nel tempo Io sono limitato Vivo oggi Sono legato All'istante presente Che sta scorrendo oggi Il 28 giugno del 2019 Ma La divina volontà No E quindi ogni atto Fatto in essa Immediatamente Va avanti A tutti gli atti Semplicemente umani Non importa L'epoca storica Non importa Il primo e il dopo Non importa Se sia piccolo o grande Ecco perché Un respiro Fatto nella divina volontà O la famosa Abbiamo parlato tante volte No? Punto d'ago della Madonna Di fronte alla graticola Di San Lorenzo Questo se ne era accorto Già San Luigi Maria Monfort Che Anche lui Vissuto poco prima Di Santa Margherita Maria No poco prima Un atto solo Un punto d'ago Fatto dalla Madonna Era superiore Alla graticola Di San Lorenzo Lui chiaramente Lo attribuiva E già E questa è closa grande Solo la purezza assoluta Delle intenzioni Della Madonna Che rendeva Umanamente Quell'atto Evidentemente Più grande Di tutti gli altri umani Anche quelli eroici Ma come stessa accade In questi santi Questo ce l'abbiamo Già dal Dal Vangelo Quando Si fanno delle cose sante E questo è verissimo Il Signore permette Che uno dica una cosa Certamente Con una certa intenzione Ma Ce n'è anche un'altra Che chi la dice Non la sa Ma Dio Ha voluto Che quella cosa Fosse detta Come dire Anche con quell'altra Intenzione Che Il dicente Non aveva Ma che Dio Voleva che ci fosse Quindi San Luigi Dicendo quella cosa Non ha soltanto fatto L'apologia Nella Madonna Ma ha anche Come dire Fatto un prequel Inconscio Diciamo così Della potenza Degli atti fatti Nella Divina Volontà Di cui la Madonna Era evidentemente Costantemente Ripiena Bene Quindi Evidentemente Sapendo queste cose Oggi possiamo vivere Una grande festa Del Sacro Cuore E veramente Fare degli atti Grandi E gliela facciamo ricordare A Gesù Ecco La festa del Sacro Cuore Di quest'anno Facendo Grandi riparazioni Che non saranno limitate A questo giorno E questa grande festa Ma Travalicheranno I confini Del tempo E dello spazio E Resteranno in eterno Come atti divini Dinanzi Al trono di Gesù E in tutti i tabernacoli Del mondo Dove fino alla fine Dei tempi Lui sarà Presente Nell'Eucaristia Ecco Santa Vergine Maria Oggi la Divina Volontà Ecco Con i suoi Prodigi Ecco Di questi testi Ci ha portato a Poter celebrare Grandemente Questa festa E a Entrare ancora meglio Nel suo mondo D'incanto Bene Ecco Solo da mettere in pratica Da moltiplicare le attenzioni Perché non ci sfuga Neanche un atto Moltiplicarle in continuazione Ecco Perché gli scudi Dinanzi al trono di Gesù Possano essere Moltiplicati all'infinito Ecco E Gesù dimentichi Veramente Grazie al surplus Del nostro amore L'amarezza E il dolore Delle ingratitudini Delle indifferenze E delle offese Di noi esseri umani Che Egli Tanto ha amato Col suo cuore Che tanto ha amato E il mondo Nella Divina Volontà Nel nome del Padre Del Figlio Dello Spirito Santo Ti benedico Per aiutarti Ti benedico Per difenderti Ti benedico Per perdonarti Ti benedico Per liberarti Da ogni male Ti benedico Per consolarti Ti benedico Per farti santo Ti benedico dunque Nella Divina Volontà Nel nome del Padre Del Figlio Dello Spirito Santo Amén